C'è una vecchia canzone di Sergio Caputo che dice è l'astronave che arriva, mira il panorama che c'è laggiù. Ebbene, oggi siete pronti a salire sulla nostra astronave, vi faremo vedere davvero un panorama speciale, una puntata, quella che sta per andare in onda questa sera, davvero brillante in tutti i sensi, non solo per quello che vedrete dopo, ma per quello che saranno in grado di fornirvi i nostri ospiti di questa sera. Davvero ce n'è per tutti i gusti, davvero c'è anche per voi di scoprire tanta, tanta storia della pallacanestro. Insomma, restate davanti ai vostri teleschermi e lo scoprirete con noi. Saliamo sull'astronave. Mi sveglio e sono le otto di domenica mattina, è già l'orario, chi mi dice che qualcosa è nato storto? Apro l'armadio e con la maglia e con la velpa e con la sciarpa, da anni ormai la vestizione è diventata sacra. Al cuor non si comanda, è vero neanche alle emozioni, io la scelta l'ho già fatta e sono già fuori ad attuarla. Se le cinque mi cammino verso il campo di battaglia, che per altri può sembrare il palazzetto comunale. C'è tensione, c'è sudore, c'è che c'è da soffrire, da esultare, da assaltare, disperarsi e ripartire, poi urlare. È un panorama, è un panorama, è un panorama basquete. E non vi lasceremo mai con cui finisce la nostra sigla, è anche il nostro nei vostri confronti. Siamo sempre qui, come tutti i martedì, a tenervi compagnia, a parlare di tutto il bello che c'è nella palacanestro. E il bello, ovviamente, è qui al mio fianco, ed è Francesca Piccheri. Ciao Francesca, ben ritrovata. Ciao Enrico, grazie, ben ritrovati a voi. Allora, puntata l'abbiamo detto brillante, poi scoprirete anche perché questo termine che ha usato. Ma sarà una puntata davvero speciale, perché? Perché ci siete voi a seguirci da casa e oggi anche in studio. E poi ci sono i nostri ospiti davvero, davvero importanti. Essi, infatti, partiamo a presentarli, i nostri ospiti, a partire da lui, che è un grande campione. È stato un grande campione e lo è tuttora e soprattutto adesso ha l'onere e l'onore di far diventare grande, ancora un'altra volta, la sua Forlì. Sto parlando dell'allenatore dell'Unieuro, Sandro Dell'Agnello. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. Ciao Sandro, grazie di essere con noi. Accanto a lui invece siede un ragazzo che ormai per noi di Panorama Basket è di famiglia e non solo, perché lo è anche per la Romagna, in particolar modo per la sua Ravenna, che insomma ha capito che lontano da lei non poteva proprio starci. Per cui quest'estate ha deciso di tornarci. Sto parlando del centro dell'Orassi Ravenna, Alberto Chiumenti. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. L'espressione lontana da te non si può stare, si addice proprio all'Alberto Chiumenti. Poi al suo fianco è al suo debutto assoluto nei nostri studi, quindi noi diamo il benvenuto al direttore sportivo di rinascita Basket Rimini, Davide Turci. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Grazie a te Davide di essere in nostra compagnia questa sera, ovviamente come lo siete voi davanti ai vostri teleschermi avrete la possibilità di sommergere di domande Francesca che poi le riverserà tutte sui nostri ospiti e sul sottoscritto, spero poche per me e più per loro. Francesca, come devono fare? Beh, vi basterà mandare dei messaggi WhatsApp al numero che vi ricordo essere cambiato e che entro la fine della stagione imparerò anche a memoria, che è 334-6091-869. Perfetto, questo ovviamente attraverso WhatsApp, ma attraverso il vostro telefonino voi dovete anche utilizzare i nostri social, in questo caso parliamo di Instagram perché, beh, come tutti i martedì c'è qualcosa di particolare. E sì, infatti vi basterà andare sulla nostra pagina Instagram e intanto seguirla. E poi andare nelle nostre storie dove troverete un sondaggio anche questa sera. In particolar modo parliamo di due squadre che affronteranno questo fine settimana Ravenna e Forlì, e sto parlando di Udine e Mantua. Sono due squadre che sono partite un po' a rilento, forse un po' più del previsto, però rimangono squadre molto pericolose. Quello che vogliamo sapere comunque da voi è quale delle due secondo voi ha maggiori problemi. E se volete scriverci anche il perché e motivare alla vostra risposta, noi ovviamente lo leggeremo qui in diretta. Esatto, poi ne discuteremo, visto che sono le due avversarie che attendono le nostre formazioni romagnole di serie A2. Bene, bene, questa era, diciamo così, l'anticamera di questa sesta puntata di Panorama Basket, che entra nel vivo con te Francesca, che ci vai a leggere e dire ciò che è successo sui campi da gioco nelle fine settimana. Sì Enrico, è una giornata di campionato che ancora una volta si è rivelata davvero sorprendente per quanto riguarda la serie A2, dove Udine scivola in casa con Caserta e Verona si aggiudica la sfida al vertice a Sansevero, rimanendo da sola in testa la classifica. Dietro di lei un gruppo di quattro squadre, tra queste c'era Venna che spreca un vantaggio di 17 punti e si fa raggiungere e poi superare da Imola i tempi supplementari. Ma c'è anche la pallacanestro Forlì capace di travolgere Ferrara nello scontro diretto e conquistare la seconda vittoria consecutiva. In Serie B continua la corsa di testa di Piacenza, Cento e Fabriano. La prima ha la meglio suo Zano, mentre Cento approfitta delle perduranti assenze in casa Tigers per tenere i romagnoli a punteggio basso e batterli. Davanti a una straordinaria cornice di pubblico, Rimini lotta ma non riesce invece a fermare la marcia. sempre più sicura di Fabriano. A ritrovare il sorriso allora sono i raggi Solaris Faenza che con una grande secondo tempo hanno la meglio su Iesi e raggiungono le altre due romagnole a quota 6 punti in classifica. Rimini però ha già domani l'occasione per riallungare sulle avversarie. Alle 19 i ragazzi di Massimo Bernardi giocheranno a Teramo il recupero della seconda giornata di campionato. Esattamente Francesca, come vedete dalla classifica che è ancora in sovrimpressione, ovviamente Rimini e Teramo hanno una partita in meno e questa partita nella fattispecie la recuperano proprio domani sera. Ne parleremo con Davide Turci, però prima andiamo a disquisire e analizzare ciò che è successo nel campionato di Serie A2 partendo da chi vince, ovvero sì in questo caso dalla pallacanestro Folli di Sandro dell'Agnello che era chiamata al secondo impegno casalingo consecutivo dopo quello dell'infrasettimanale con l'Urania Milano, arrivava Ferrara e arrivava con il biglietto da visita di miglior difesa del campionato. Come sempre le teorie contano poco perché Follini ne fa 104. Sì e non solo, anche perché in quel momento era prima in classifica e adesso è tuttora seconda, quindi per noi era una partita difficile, ma non voglio banalizzare difficile, perché loro hanno guardie molto grosse che possono mettere in difficoltà chiunque, hanno una difesa comunque molto sostanziosa al di là di domenica e appunto venivano da capolista del campionato. Noi secondo me siamo stati molto bravi, molto, specialmente dal punto di vista offensivo. Nell'arco dei 40 minuti vorrei toglierci però i primi 5 perché abbiamo fatto una partenza molto ad handicap e rischiavamo di compromettere tutto. Per la verità siamo stati bravi due volte e sono felice anche per i miei giocatori perché nonostante una partenza a handicap abbiamo poi girato la partita portandoci addirittura sul più 20 nel quarto quarto e controllando direi abbastanza agevolmente. Con 7 giocatori in doppia cifra, con una prestazione ovviamente balistica, l'abbiamo detto, importante anche nel tiro dalla lunga distanza. Cosa dimostra questo? Ovviamente, direbbe quasi da dire troppa grazia a Sant'Antonio, nel senso non è che Forlì possa fare 104 punti a partita sempre, però il potenziale, un potenziale diciamo diffuso, questa volta è venuto fuori. Sì, a un allenatore fa molto piacere vedere una squadra che ha piacere di passarsi la palla e vedere tanti giocatori protagonisti, come in questo caso, in attacco. Come hai detto tu, non sempre è Natale, non sempre faremo il 45, non mi ricordo quello che abbiamo fatto da tre punti, però c'è stata la volontà per 40 minuti di trovare l'uomo più libero, comunque meglio piazzato per andare a concludere. E questa caratteristica di altruismo che stiamo cercando di distillare dal primo giorno di allenamento sta venendo fuori alla grande, ma il merito maggiore sicuramente è dei giocatori che hanno il piacere di giocarsi insieme e soprattutto di favorire in qualche modo il compagno. È fondamentale nella costruzione di una squadra. Quello che qualche volta tu invece stigmatizzati in senso negativo, a volte c'era stata una situazione di palla troppo ferma e Forlì per questo aveva perso forse il derby con Ravenna, aveva rischiato di perdere con Milano. Ma nella pallacanestro moderna, dove le difese a uomo ci sono ancora, ma sono relativamente a uomo, perché sono quasi delle zone sempre davanti alla palla, contro le squadre meglio organizzate, e fermare la palla è il suicidio più grande che puoi fare. E quindi magari a volte i giocatori la fermano non tanto per egoismo, ma perché pensano che in due secondi poi possono trovare una soluzione migliore. È un errore enorme perché quei due secondi permettono alla difesa di posizionarsi meglio. Quindi il fermare la palla è assolutamente deleterio, il provare a condividerla sempre con continuità come abbiamo fatto noi l'ultima partita è ottimale. È un campionato però davvero davvero strano, quello di Serie 2 almeno nelle prime sei giornate che si sono disputate. È un campionato dove in questo momento, lo chiedo a te Sandro, ma lo chiedo anche ad Alberto, prima poi di entrare nella fattispecie del derby giocato al Palaruggi di Imola, in cui obiettivamente facciamo fatica a dare una lettura. L'ha detto Francesca con il nostro sondaggio, Udine-Mantova sono partite più lente di voi, ci sono la stessa caserta, ci sono dei risultati ovviamente sempre abbastanza sorprendenti e vantaggi e svantaggi che a volte diventano anche importanti, che vengono mangiati in pochi minuti. Sì, evidentemente molte di noi, noi compresi, non siamo ancora pronti, però la verità è che siamo partiti tutti dicendo che Verona e Udine sarebbero state le squadre da battere, probabilmente lo saranno, Verona lo sta anche dimostrando, però nessuno ha una vera identità in questo momento nel campionato che andiamo a giocare, ma direi per entrambi i gironi, perché ci sono risultati a sorpresa ogni domenica, quindi è ovvio che magari poi alla fine le più forti, le più deboli, ok, si mostreranno tali, però ad oggi è quasi impronosticabile prevedere il risultato di una partita, tu pensa con tutto il rispetto per Orzinuovi, che è una nepromossa e che sa benissimo che gioca per salvarsi, ha battuto Verona, che è la squadra che dovrebbe uccidere tutti, noi personalmente siamo andati a giocare a Orzinuovi, abbiamo vinto D15 e sembrava che avessimo rubato le caramelle in chiesa, invece non è così, perché ci ha andato a Verona e ci ha perso. Assolutamente, ecco Alberto condividi un po' la lettura che ha dato Sandro Dell'Agnello. Ma sì, sicuramente, io devo dire che gli ultimi 3-4 anni di questa Lega 2 qua non avevo visto questo equilibrio e questa difficoltà in tutte le partite, io ho visto un po' anche altre partite e dico che nonostante siano state costruite buone squadre, la nostra, la reputo è una buona squadra, non ci sono partite facili, se appena sbagli l'approccio, appena sono tutte le squadre in grado di farti male e di portarti via punti che poi alla lunga possono pesare molto, insomma. L'ultima partita ne è stato un po'... In senso ovviamente negativo per voi, ne è stato un po' l'emblema. La stessa Imola, in precedenza nell'infrasettimanale, aveva accumulato un vantaggio importante a Mantova, l'aveva riperso questo vantaggio, poi ha avuto la bravura di dare la spallata e portare a casa i due punti. Però cos'è successo alla tua Ravenna, Alberto? Perché fino alla terza sirena sembravate padroni del match. Sì, sì, sicuramente è successo un po' una cosa diversa dalle altre partite, o meglio abbiamo quasi sempre avuto una leggera flessione metà partita terzo quarto, mentre lì abbiamo fatto secondo me tre quarti di buona pallacanestro, dove la palla si muoveva veramente bene, abbiamo segnato tiri aperti e sembrava andare tutto nel migliore dei modi, però ovviamente la partita è 40 minuti e la cosa sempre più preoccupante è il momento di flessione che è quasi sempre normale. Ci è capitato nel momento finale dove non abbiamo ammazzato, tra virgolette, la partita e abbiamo dato fiducia a loro. In casa, ovviamente poi entra in partita anche il pubblico e tutto, i tiri, sicuramente Baldasso ci ha messo grande talento e ha messo tiri pesantissimi per noi, però io credo che tanti errori da parte nostra nel momento decisivo. Ecco, più offensivi o difensivi? Perché leggendo le dichiarazioni di coach cancellieri, ovviamente lui pone il dito più che altro sul fatto che in difesa qualcosa non ha più funzionato. Sì, sì, sicuramente secondo me non abbiamo smesso di difendere, abbiamo smesso di seguire il piano gara, nel senso che dal momento in cui abbiamo perso quella fluidità che dall'inizio sembrava una cosa semplice domenica e abbiamo smesso di credere in quello che era il piano partita che fino in quel momento invece ci aveva portato ottimi risultati. Quindi oggi l'abbiamo rivista, è stata tosta perché veramente abbiamo regalato con errori ingenui anche di giocatori esperti, tra virgolette, come anche il sottoscritto e... Quanto è pesato anche il quinto fallo di Thomas? Sicuramente, sicuramente i falli, è stata una partita con una marea di falli, l'arbitro continuava a fischiare, quindi anche il ritmo non era così semplice trovarlo. Però sicuramente non si è perso per gli arbitri, insomma. Penso che domenica la colpa è stata nostra, più che... Resta comunque un bellissimo avvio di campionato il vostro, al di là di tutto. Poi ne parleremo ovviamente, Alberto. Sì, sì, no, sicuramente è un avvio positivo, però ancora questa cosa fa ancora più rabbia perché veramente avevamo un'altra ottima partita nelle mani e l'abbiamo lasciata sfuggire e non è una buona cosa. La rabbia, lo dico al reggì, lo dico anche a te Francesca, Alberto Chiumenti l'ha sfuggato in una maniera un po' particolare nella giornata di ieri. Non so se abbiamo una foto che ci dimostra come Alberto per, diciamo così, cercare di mangiarsi dentro la delusione ha deciso di mangiare tutta quella roba che trova sulla tavola adesso nella nostra foto che sono cappelletti. Buonissimi immagino, no? Buonissimi, buonissimi, almeno quello sono venuti bene. Quindi cosa hai fatto? Hai cucinato per dimenticare? Hanno fatto dieci uova di cappelletti perché almeno passava un po' il tempo. Possiamo prenotarci, ogni volta che Ravenna magari rimane sconfitta, noi ci possiamo prenotare a cena, certo? E speriamo che Ravenna per da poco perché altrimenti ci sono vieni. Assolutamente, assolutamente. Diciamo che l'ha presa bene però perché di solito le sconfitte tolgono l'appetito qua, mi sembra. Tra l'altro poi su questa foto ci ritorneremo da un certo punto di vista perché il blog e anche la pagina Instagram che vi chiedo di seguire, che è Eventi Culinari, che tu e la tua compagna gestite, ho visto che c'è una nuova primavera di questa pagina, state producendo tantissimo fornello. Ma sì, adesso sì, diciamo che cambiando casa è una cucina un po' più adatta per provare, fare, quindi ci piace, è una passione, ma è puramente una cosa per divertimenti. Poi ce ne parli, poi ce ne parli. Allora Francesca, adesso ci prendiamo una piccola pausa per andare a salutare i nostri partner, da chi andiamo? Poi dopo abbiamo parlato di campionati indecifrabili in Serie 2, figuratevi quello che sta succedendo in Serie B, ne parleremo con Davide Turzi. Dove andiamo adesso? Andiamo a salutare Romagna Fiere. Vuoi trascorrere una domenica diversa e originale? Vuoi fare o vuoi farti un regalo a costi decisamente accessibili? Allora vieni alla Fiera di Forlì domenica 10 novembre perché ti aspetta commercianti per un giorno, l'unico mercato dedicato esclusivamente ai privati dove potrai scambiare, vendere e comprare a pochi euro oggetti di ogni genere. Dalle 9 alle 19, Romagna Fiere e 350 espositori ti daranno la possibilità di scegliere tra un mondo di articoli e oggetti di seconda mano ma ancora in ottimo stato. Vieni a cercare la tua occasione, la troverai tra tutto ciò che ti serve per rinnovare il guardaroba, gli ambienti della casa, la libreria, l'ufficio, l'angolo giochi dei bambini. E soprattutto potrai risparmiare. Vieni quindi in Fiera e prima di farlo scarica la riduzione da commerciantiperungiorno.it ed entrerai a soli 5 euro. Perfetto, rieccoci, rieccoci in studio. E dicevo prima appunto di questo intermezzo con Francesca che ci ha portato a salutare uno dei nostri partner di Panorama Basket, abbiamo detto campionato di Serie 2 particolarmente diciamo difficile, complicato da inquadrare al momento. Se la regia può mandare in onda di nuovo anche la classifica del campionato di Serie B c'è un terzetto di testa, dietro però c'è un magma che è difficile Davide in questo momento da definire. Ecco, siete tutte lì, davvero tutte lì. Sì, è un campionato di un livello molto molto alto in queste squadre di testa sicuramente mancano Cesena e Chieti che sono lì sotto ma solo provvisoriamente perché hanno dei roster veramente importanti e sarà un campionato che secondo me anche dalla sesta alla nonna posizione saranno differenze di 2-4 punti cioè sarà un equilibrio incredibile bisogna essere bravi a vincere quando si deve vincere e fare il possibile insomma. Ecco, la tua Rimini che ha uno slogan molto bello molto particolare che è Play Like a Hero era andata a Ozzano e lì davvero avete giocato da eroi perché avete fatto un quarto quarto da 33 punti riuscendo a rimontare e vincere una partita importantissima che credo abbia dato davvero grande entusiasmo a tutta l'ambiente. Poi l'entusiasmo nella partita di cui state vedendo le immagini sugli spalti c'era perché dimmi te quanta gente c'era a Flamina domenica. C'erano 2.500 persone merito di questi sono gli oltre 400 da Fabriano che è stato un esodo vero e proprio quindi abbiamo fatto i complimenti alla società di Fabriano perché hanno portato più di 400 tifosi veramente corretti con un entusiasmo incredibile. Sono due piazze storiche Rimini-Fabriano quando più di vent'anni fa la seguivamo si vivevano delle sfide veramente incredibili. Sta ritornando stiamo provando a creare un entusiasmo rinnovato a Rimini noi siamo stracontenti sì sul campo abbiamo perso oggettivamente loro hanno qualcosa in più però avere 2.000 più riminesi in un weekend di ponte di festa sai il riminese comunque gli piace fare la gita fuori porta è stato è un successo incredibile quindi siamo veramente stracontenti che stanno accogliendo questo ritorno ovviamente attesissimo in Serie B di Rimini di rinascita basket in questo caso come? Cioè dai numeri ovviamente in modo importante ma l'atteggiamento che si respira anche durante tutti i sette giorni qual è? un atteggiamento di voglia voglia di pallacanestro noi siamo partiti l'anno scorso con un progetto nuovo abbiamo coinvolto 10 società del territorio stiamo facendo molto bene a livello giovanile quindi stiamo andando a coinvolgere le società limitrofe quindi siamo veramente in crescita e vediamo proprio la gente che ha voglia proprio di partita creiamo diversi eventi durante la settimana cerchiamo di coinvolgere il pubblico in modo sano la pagina social di Facebook e Instagram veramente sta esplodendo e quindi stiamo facendo un lavoro da quel punto di vista incredibile poi logicamente veniamo dal campionato dove abbiamo vinto praticamente sempre quest'anno abbiamo confermato la maggior parte della squadra puntando sempre sui ragazzi del territorio assolutamente sì perché insomma con Rinaldi è tornato no? un ritorno di Tommy un riminese vero quindi partiamo da lì dai nostri ragazzi del posto sappiamo che faremo un campionato diverso quest'anno vogliamo provare a entrare in queste prime otto e poi toglierci le nostre soddisfazioni ascolta avete lottato comunque con Fabriano eravate andate sotto sono sbagliati di 18 punti ma avete comunque continuato a giocare avete recuperato per quanto possibile in questo momento che differenza c'è tra voi e loro e questa differenza insomma si potrà colmare? guarda noi abbiamo tirato due volte per arrivare a meno 5 con due tiri che sono entrati e usciti quindi la partita è rimasta viva fino alla fine loro come struttura come esperienza come ambizioni hanno qualcosa in più noi in casa al Flaminio dobbiamo avere la mentalità che ce la dobbiamo giocare con tutti poi è un campionato di un livello altissimo quindi già da domani a Teramo per noi sarà battaglia vera perché comunque andiamo là per provare a vincere la partita e riprenderci qualcosina che aveva lasciato in casa precedentemente con Iesi che purtroppo lì invece abbiamo regalato nella partita sì lì una di quelle partite come ne abbiamo viste anche in Serie A2 ma anche in Serie B in cui ovviamente tanti vantaggi anche importanti in questo caso purtroppo per Rimini mangiato non è stato un po' un mezzo carachiri quello vostro sì sì assolutamente le cose come stanno però se andate vicino a Stano che parliamo di 14 a 3 minuti da fine esatto assolutamente sì in Serie A2 succede anche che nella vittoria di Fulici sono stati come dicevamo prima tanti protagonisti ben 7 uomini in doppia cifra dal mio punto di vista uno su tutti ma poi ne parleremo anche tra poco che è Jacopo Giacchetti noi Jacopo Giacchetti l'abbiamo anche intervistato a botta calda e sentirete anche uno si rispetta un Jacopo Giacchetti subito mega scintillante e euforico per la vittoria ma sentite cosa dice una vittoria netta da parte della palacanestro beh lascia poco spazio da quel stesse tipo di considerazione se non complimenti perché a 104 punti realizzati 7 giocatori in doppia cifra a parte i primi 4 minuti dopo davvero Forlì ha espresso pienamente il proprio potenziale no abbiamo fatto sicuramente una grande prova offensiva però 90 punti sono troppi sono troppi in casa soprattutto e quindi dobbiamo iniziare a pensare a questo sicuramente ci prendiamo il bello della vittoria di aver fatto 104 punti però non si fanno tutte le domeniche invece 90 se li tagliamo se li tagliamo un po' sicuramente avremo più possibilità di vincere le prossime allora diciamo due cose la prima in positivo la capacità della squadra quando si è espressa in velocità ha fatto girare velocemente uomini e palla e spera c'è proprio basket migliore da lavorare invece anche su qualche blackout e calo di tensione sì non possiamo sicuramente concedere una partenza così perché poi oggi ci è andata bene siamo stati bravi a rientrare però non sempre sarà così quindi dovremmo sicuramente cercare di aggredire di più la partita perché prendere 15 punti 14 punti in 4 minuti iniziali è impensabile quindi dobbiamo lavorare sicuramente sulla fase difensiva meglio perché noi siamo una squadra che vince se tiene le squadre a 75 70 non a 90 quindi oggi è andata bene ci prendiamo la vittoria la terza partita in una settimana quindi è andata bene così vorrebbe da dire incontentabile Jacopo Ciacchetti però però ha ragione no? 90 punti perle di saggezza ecco ma Jacopo ha ragione al 100% ne abbiamo già parlato addirittura ne abbiamo parlato appena rientrati nello spogliato alla fine della partita invece di festeggiare troppo abbiamo subito sottolineato questi aspetti ma lo sappiamo dei giocatori che sono coscienti di questo per la verità noi prima di questa partita eravamo la terza difesa del campionato anche se su 5 partite non è una statistica super veritiera però già qualcosa ti dice ovviamente adesso l'ultimo abbiamo regalato 90 punti abbiamo scalato qualche posizione sappiamo che possiamo far meglio e dobbiamo farlo ma soprattutto per quell'inizio diciamo un po' sciagurato dei 17 punti in 5 minuti perché per il resto poi è stata abbastanza in linea cos'altro ovviamente all'inizio diceva anche Lorenzo benvenuti a fine partita è una questione mentale poi fondamentalmente perché come si allenano gli inizi di partita probabilmente sì ma noi cerchiamo come fanno tanti allenatori fanno tante squadre di ricreare le tensioni della partita anche in allenamento giocando col cronometro giocando col punteggio ma un allenamento non sarà mai una partita noi abbiamo sicuramente quei 5 minuti lì abbiamo sbagliato però siccome l'abbiamo già detto due o tre volte è anche vero che abbiamo battuto la prima incassica facendo 104 punti parliamo anche del fatto che abbiamo vinto abbiamo fatto 104 punti e siamo secondi se no siamo sempre lì a puntare il dito sulle cose che non vanno e non guardiamo mai quelle che vanno che sono di più ma dopo infatti abbiamo preparato uno schema una schermata che ti faremo vedere Sandro che riguarda proprio alcuni diciamo abbiamo chiamato verità presunte su Forlì ma ne discuteremo prima vi voglio chiedere invece ad Alberto una cosa perché abbiamo citato a Anpassani il fatto che ovviamente Verona è in testa al campionato tra l'altro ha vinto a San Severo senza i due stranieri voi a Verona ci avete già giocato ti chiedo l'impressione è la nuova fortitudo ma sicuramente se dobbiamo guardare il roster non c'è niente da dire hanno due giocatori titolari in ogni ruolo quindi titolari e anche giocatori che hanno già vinto che questa secondo me è una cosa molto molto importante soprattutto nelle fasi finali insomma Guido Rosselli ha un curriculum che parla da solo ma anche lo stesso Prandin comunque arriva da due campionati vinti e questo secondo me nei momenti decisivi può fare la differenza sicuramente contro di noi noi abbiamo perso alla fine di 20 punti 20-22 adesso non ricordo alla fine del terzo quarto eravamo a meno 5 si sono dimostrati sicuramente in questo momento più forti di noi hanno meritato e forse la squadra che in questo momento è l'unica che ho visto un po' già più avanti le altre secondo me sono tutte ottime squadre che diventeranno forti con il passare delle giornate ci vuole ancora un po' di tempo speriamo non subito per voi perché ci hanno giocato in casa con Udine proprio sabato sera ricordiamola non domenica sabato la partita di Ravenna al Pala di Andrei detto questo prima piccola pausa pubblicitaria e poi ripartiamo con un secondo blocco di Panorama Basket ricchissimo state con noi perfetto ben ritrovati seconda parte di Panorama Basket e come tutti i martedì in questo momento noi vogliamo svelarvi chi grazie alla sua bravura nel indovinare tutti i pronostici della nostra schedina tutti o quasi potrà andare in un vero e proprio paradiso del gusto dove Francesca? potrà andare a recuperare il suo premio in un posto che a voi piace tanto perché è Marco Evito la macelleria e gastronomia che trovate a Forlindia Carossa 58 dove andare a comprare carne di ottima qualità ma non solo perché ci sono davvero tantissimi prodotti enogastronomici del nostro territorio e proprio lì si troverà il premio del nostro vincitore Enrico esattamente siccome abbiamo detto in questa puntata che è sempre più difficile da Zeccari pronostici qualcuno di voi è stato più bravo qualcuno meno bravo vediamo chi sono stati i più bravi con la nostra classifica i più bravi a partire dal terzo classificato con 59 punti che è Mattia Spadolini quindi complimenti Mattia terzo posto ma non è bastato per vincere al secondo posto troviamo invece con 71 punti Stefano Banetti che ha fatto molto bene questa settimana ma non abbastanza neanche lui perché il vincitore questa settimana ha avuto uno scarto bello importante perché ha totalizzato 85 punti e il vincitore è Daniele Bravi quindi Daniele complimenti sei stato tu a vincere il premio della nostra schedina di Panorama Basket se ci stai seguendo mandaci la tua mail al nostro numero Whatsapp così poi ti invieremo il coupon per andare a ritirare il premio esattamente Francesca ovviamente io mi prenderò l'onore in questo caso di aggiornare anche la classifica generale della nostra schedina nella quale ovviamente Daniele farà un bel balzo in avanti la pubblicheremo su Facebook verso il fine settimana ma su Facebook voi dovete andare sin d'ora Francesca vero? Eh sì perché lì troverete la nostra domanda settimanale quella che verte sui temi caldi della settimana delle nostre squadre romagnole in particolar modo questa settimana questa sera approfittiamo del fatto che abbiamo qui Sandro Dell'Agnello per parlare di un argomento che riguarda Forlì in particolar modo questo tema ha come protagonisti Giacchetti e Maurice Watson Jr in particolare vi chiediamo se secondo voi tra Watson e Giacchetti ci sono difficoltà di coesistenza tecnica in campo rispondeteci sì o no e magari motivandoci anche il perché esattamente perché se ne era discusso molto nelle ultime settimane negli ultimi giorni di questo tema ovviamente prima diteci la vostra su Facebook poi dopo le vostre opinioni le metteremo a confronto con quella ovviamente che è la più importante di tutti di chi li allena Watson e Jacopo Giacchetti ovvero sia di Sandro Dell'Agnello quindi diteci la vostra perché sarà un tema ovviamente di discussione anche qui in puntata grazie Francesca intanto noi continuiamo ovviamente a parlare del campionato di Serie A2 di Serie B lo facciamo però Francesca ti voglio ridare subito la parola perché è arrivato un messaggino davvero curioso dai su eh sì le uova usate per fare la sfoglia erano sicuramente le naturelle che era lo sponsor di Imola sicuramente ha usato quello vero? no no assolutamente non credo che Alberto abbia fatto quello no va bene no l'abbiamo fatto sorridere un attimo allora 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 abbiamo detto che ehm volevamo un po' analizzare sia la situazione di Forlì che comunque il campionato di Serie B io voglio partire proprio dal direttore sportivo di rinascita Baschetti Rimini con una slide che abbiamo preparato sul torneo cadetto mettendo un po' a confronto le tre romagnole che in questo momento sono tutte tre a sei punti in attesa del nostro recupero ovviamente e vogliamo capire un po' analogie differenze tra loro ovviamente con l'aiuto della statistica no questo è quello che dicono le cifre in questo campionato in ottica riminese Davide beh siete la squadra che tira meglio da due di tutto il campionato non solo delle tre che abbiamo analizzato adesso c'è qualcosa da rivedere dove secondo te e su cosa invece insistere negli aspetti positivi del gioco di RBR ma in questo momento abbiamo un tiro da tre che è un po' corrente alternata a volte abbiamo buone performance altre meno però comunque i ragazzi stanno tirando con fiducia quindi sicuramente è una situazione che non ci preoccupa poi dopo logicamente in questo momento diciamo che sono passate troppo poche partite per dare delle valutazioni un po' più profonde però sicuramente in questo momento il tiro da tre punti è quello che ci sta un po' facendo arrabbiare vediamo anche le statistiche delle altre squadre romagnolo vero sia difenza di Cesena però ti chiedo questo e la domanda che un direttore sportivo devo fare anche se siamo ovviamente all'inizio di novembre e non credo credo che tu mi fulminerai se ti chiedo questo ma te lo devo chiedere ma state pensando anche se che se capita un'occasione la squadra possa essere eventualmente arricchita e migliorata in corsa eventualmente proprio con un esterno un tiratore avete già pesaresi che è un tiratore guarda no abbiamo tantissima fiducia ai nostri ragazzi in questo momento siamo esordienti primo anno che siamo in questo campionato abbiamo sei giocatori che hanno fatto la serie B quattro giocatori che praticamente sono esordienti in questo campionato abbiamo tutto il tempo per farli crescere siamo in linea con le aspettative ripeto noi dobbiamo entrare nelle prime otto squadre sai Rimini è una piazza che viene dal campionato che abbiamo sempre vinto quindi si fa la bocca buona e quindi tutti quanti vorrebbero qualcosa in più una piazza importante più di duemila persone al palazzetto quindi è facile però in questo momento onestamente abbiamo una squadra che è molto solida molto unita sta lavorando benissimo e quindi sinceramente poi un buon direttore sportivo il mercato lo deve guardare sempre però ti dico la verità insomma anche per gli obiettivi che abbiamo per la stazione che abbiamo in testa al momento penso proprio che non ci sia spazio per hai parlato di giovani hai parlato di giovani ti chiedo quanto può essere un fattore per Rimini quest'anno ma in proiezione per il campionato di Serie B un ragazzo come Moffa sì sì Nicolò Nicolò si sta approcciando molto bene anche lui sta facendo un percorso importante sta avendo fiducia minuti 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 veri logicamente sta lavorando perché anche lui essendo praticamente un esordiente sa che deve lavorare su alcune caratteristiche soprattutto magari difensive e lavorare sul suo fisico però è un giocatore che noi siamo convinti che insomma possa fare una bellissima carriera dimmi due cose anche sulle altre Romagnole una l'ha affrontata a Cesena al Carisport è stato un derby ovviamente in cui Cesena ha giocato una gran partita va detto assolutamente e Faenza ci dovete ancora giocare secondo te insomma che tipo di range di torneo potranno fare un po' su Cesena l'hai già detto sì Cesena sicuramente la vedo la vedo su in alto assieme a Chieti Fabriano e Cento recuperando anche gli infortunati perché facciamo anche scusami se ti interrompo Davide un piccolo punto della situazione in questo momento ancora la sublussazione alla spalla tiene fuori Planesio i problemi anche di Frassinetti nei giornali di oggi è uscita un'intervista a Giampaolo Di Lorenzo che purtroppo dice che non sarà semplice recuperarli in vista del prossimo match casalingo con Porto Sant'Elpidio sì però è una struttura è una squadra che per qualità di giocatori struttura l'anno scorso ricordiamo che sono arrivati a un tiro dalla Serie A e hanno comunque inserito giocatori molto importanti quindi sicuramente con un po' più di fortuna riuscendo ad allenarsi con continuità riusciranno ad arrivare dove pensano di poter arrivare poi arrivare a vincere il campionato quest'anno non ci vuole Mago Merlino non lo so ci vuole un indovino perché il livello è talmente alto che non è semplice Faenza è una squadra giovane simile alla nostra che ha più esperienza perché anche loro la Serie B anche l'anno scorso hanno fatto un ottimo campionato è una squadra secondo me come noi che dovrà lottare per arrivare nelle prime otto mentre Cesena onestamente la vedo un gradino sopra perfetto io ti ringrazio di questo analisi ad ampio raggio Davide e però andiamo a vedere anche chi sono stati grazie a Francesca i migliori giocatori singoli nelle prestazioni individuali più importanti di quest'ultima giornata di campionato sì Enrico per quanto riguarda la Serie B in questa Top 5 abbiamo un solo giocatore che è Simon Anumba di Faenza che ha guidato i raggi solari Sala Vittoria su Iesi con 16 punti 10 rimbalzi e ben 7 assist per i compagni per quanto riguarda invece la Serie 2 spicca la coppia di Forlì composta da Eric Rush e da uno strepitoso Jacopo Giacchetti che pensate ha chiuso la partita contro Ferrara con un rapporto plus minus addirittura di 39 ovvero con lui in campo i biancorossi hanno dato 39 punti di scarto ai propri avversari e sono cifre davvero strepitose non è servita invece a Ravenna una nuova grande prestazione di Charles Thomas perché il derby con Imola infatti porta la firma di Lorenzo Baldasso come diceva poi prima anche Alberto ed i suoi 6 canestri da 3 punti quasi tutti decisivi a Baldasso però assegniamo un secondo punto perché è risultato fondamentale anche nella vittoria di Imola a Mantova nel turno infrasettimanale e sempre per il turno infrasettimanale per quanto riguarda le gare di mercoledì scorso diamo punti anche a Caspar Traier di Ravenna e a Pierpaolo Marini di Forlì esattamente ecco questi i giocatori che conquistano punti per la nostra classifica dell'NV Panorama che il trofeo che verrà assegnato a fine stagione al giocatore che avrà ottenuto più presenza nella nostra top 5 parliamo di giovani parliamo di nuovi compagni di squadra Alberto perché torni a Ravenna ovviamente in una configurazione di squadra diversa rispetto a quella che avevi lasciato giocatori esperti come Sergio giocatori giovani come Traier appena citato da Francesca Jurkatam l'anno scorso non era un tuo compagno di squadra insomma che mix vedi in questa squadra giallorossa? ma direi che io penso sia stato allestito veramente un'ottima squadra fatta di giocatori che amano giocare insieme amano allenarsi un altro grande acquisto secondo me è Marco Venuto che è un giocatore che ti dà grande solidità esperienza e soprattutto non è quel giocatore che per giocare bene deve essere protagonista insomma e poi niente giovani come Traier sono sicuramente giovani che sono giovani relativamente nel senso che sono giocatori che hanno già giocato questo campionato e comunque hanno 20-21 anni e le prospettive per loro dovrebbero essere quelle di arrivare nella massima serie nel giro di qualche anno quindi sicuramente non sono i giovani da allenamento ma sono i giovani da partita tra virgolette anche Jurkat a me piaceva vederlo anche da avversario devo dirti che è un giovane veramente veramente interessante dal momento in cui metterà un po' di carattere tra virgolette sarà veramente un giocatore con ottime qualità c'è tosto però ce l'ha ce l'ha manca un po' secondo me di costante cattiveria nel volere allenarsi forte nel volere arrivare insomma però considerando che è un ragazzo del 2000 i presupposti ci sono insomma Francesco una domanda per qualcuno dei nostri ospiti casomai per Sandro Dell'Agnello sì mi sembra che il vero top player di Forlì sia proprio Sandro Dell'Agnello non abbiamo due giocatori americani super ma un bel gioco di squadra Complimento cui però unisco una domanda che mi ispira il telespettatore il famoso discorso degli americani se ne è discusso tantissimo a Forlì avete preso due giocatori prettamente di sistema volendo prendere di sistema ti chiedo direttamente perché questa scelta se ti aspetti qualcosa di più da loro stanno soddisfacendo entrambi le tue aspettative hanno avuto degli alti e bassi come peraltro tanti giocatori il 90% dei giocatori di questo campionato noi abbiamo una squadra con tanti italiani importanti questo è il nostro punto di vista e non abbiamo voluto scegliere giocoforza un americano che accentrasse troppo il gioco un giocatore straniero che accentrasse troppo il gioco abbiamo scelto due giocatori secondo me molto affidabili e anche molto bravi e anche molto bravi ma non sono accentratori non sono quel tipo di giocatori a cui dai la palla e poi aspetti che inventino qualcosa da soli perché non sarebbero stati molto a loro agio con gli italiani che hanno vicini perché hanno italiani ripeto molto importanti noi abbiamo giacchetti in doia bruttini benvenuti marini non mi sembra nemmeno giusto mettere vicino a loro un giocatore che blocchi la palla fermi il gioco e loro si mettono in angolo ad aspettare e questa sta diventando veramente la nostra forza però questa osservazione che ho fatto non vuole essere sminuente non so se si dice in italiano sminuente non vuole sminuire il valore né di Watson né di Rush che secondo me sono due ottimi giocatori ma soprattutto di squadra Watson in crescita assolutamente è arrivato qua un po' sbalestrato ha avuto un paio di vicissitudini in precampionato che secondo me un pochino l'hanno condizionato anche perché ha avuto un figlio e con qualche problema un quarto esatto che poi è quarto con qualche problemino non fisico non di salute assolutamente ma di organizzativo diciamo perché quattro figli sono molto impegnativi e secondo me ha pagato anche questa cosa qua eh sì allora Francesca adesso vogliamo andare un attimo a salutare un altro nostro partner poi dopo devo far vedere a Sandro De Nagnello una tabella che abbiamo preparato che le avevo preannunciate si e ricondiamo a salutare Arreda Metallici Entra in un mondo di idee e soluzioni pensate per la comodità e la funzionalità del tuo ufficio del tuo esercizio commerciale e della tua casa è il mondo di Arreda Metallici che da 30 anni opera a Forlì con professionalità e attenzione alle esigenze dei suoi clienti Arreda Metallici progetta realizza distribuisce e posa direttamente in loco sistemi componibili per aziende magazzini negozi uffici scuole e biblioteche se cerchi una soluzione pratica ed efficiente la trovi tra una vasta scelta di scaffalature banchi vetrine cabine armadio librerie supporti espositivi adattabili a ogni spazio classificatori stander panche e spogliatoi per palestre Arreda Metallici è in via Gorizia 222 224 a Forlì contattala gratuitamente senza impegno il suo personale specializzato sa come aiutarti eccoci eccoci di nuovo qui con voi e abbiamo detto prima che avremmo analizzato un po' il momento di Forlì sulla base anche di quello che ovviamente è prematuro però i numeri qualcosa dicono anche se sono diciamo stilati presi da sei sole partite di campionato però qualcosa mi hanno ispirato abbiamo fatto una tabella una slide che vorrei mostrarvi l'abbiamo chiamata verità presunte alcune sono mie verità presunte nel senso che tante volte si dicono delle cose in estate e poi la prova dei fatti dimostra altro tante altre sono situazioni di cui si è parlato molto a Forlì in questi giorni ad esempio Forlì ha pochi punti nelle mani in realtà si è del terzo attacco c'è una squadra che teoricamente si dice non abbia tiratori puri invece diciamo è la quarta squadra Forlì nel tiro da tre e lo stesso Watson ha il 50% nell'arco dall'arco dei tre punti dal punto di vista offensivo c'è qualche diciamo luogo comune che vuoi sfatare che stai sfatando con la tua squadra sono tutte osservazioni che intrigano molto perché sono osservazioni giuste io tengo d'occhio le statistiche proprio appunto stamattina ho guardato un po' ovviamente le statistiche di squadra per capire cosa stiamo facendo cosa possiamo migliorare e questi sono sono numeri e numeri come sempre non sono opinioni ma sono verità e hai già detto hai già detto bene tu noi abbiamo un ottimo attacco per adesso in termini di punti tiriamo con ottimi percentuali siamo molto presenti a rimbalzo ci sono delle cose che dobbiamo migliorare ma tanti interrogativi che che c'erano quest'estate che potevano essere anche comprensibili vengono smentiti dai fatti e questo mi fa molto piacere ecco io allora pongo l'attenzione soprattutto su due aspetti il primo la presenza in area Bruttini sta facendo un campionato di una solidità incredibile non lo scopriamo adesso ovviamente Davide Bruttini ma come costanza di rendimento le cifre lo dimostrano quasi 11 punti di media è il secondo miglior tiratore dal campo del campionato ma guarda per Davide è rammarico che fino adesso non siamo riusciti a dargli magari due tre quattro palloni in più come sarebbe giusto che fosse però è un giocatore che fa della negazione della disponibilità veramente la sua caratteristica principale io sono molto soddisfatto di lui quando quest'estate abbiamo parlato di Lunghi con Renato è veramente ma mi dovete credere il primo nome che abbiamo fatto perché secondo me la nostra limitità e l'efficienza in una squadra è pazzesca ritorno da te con l'altra sollecitazione che ti volevo sottoporre però vado un attimo ad Alberto perché anche questa dei Lunghi Alberto è stata una diciamo chiamiamola critica nei confronti della società in fase di mercato c'è Alberto Chiumenti e lo dico proprio sinceramente sono tutti felicissimi che tu sia tornato però diciamo Alberto Chiumenti è solo sotto canestro ti senti solo sotto canestro? No beh no adesso per quanto riguarda l'allestimento della squadra ovviamente non sta a me giudicare o fare sicuramente abbiamo un po' di carenza di quello che è magari un ruolo di cinque di cinque nel senso che il cambio in questo momento è un giovane che ha pochissima esperienza in questo campionato veramente veramente difficile sicuramente la cosa che mi spaventava di più è un po' quando non si gioca di sistema e non si gioca di squadra allora lì è molto più facile dire a Ravenna manca il tiratore o il cinque o il quattro o il tre mentre in un sistema dove si gioca di squadra la palla si muove e tutto secondo me tutti quelli che sono i dettagli tecnici le caratteristiche dei giocatori incidono molto meno e io penso che è arrivato veramente a Ravenna un bravo allenatore un allenatore che conosce veramente la paracanestro tutti i giorni se lo dimostra e ha grande voglia di imporre il suo modo di pensare il basket quindi questo per un giocatore come me è fondamentale perché adoro giocare di squadra adoro creare una chimica di squadra che io penso che alla lunga ti faccia vincere le partite assolutamente ritorno invece da Sandro Dell'Agnello e richiedo ancora la mia regia se mi rimostra la slide perché il vero tormentone della stagione della palacanestro si chiama Pierpaolo Marini per voi per noi ecco infatti allora quali sono le realtà le realtà sono queste che Pierpaolo Marini non sta avendo delle grandi cifre dal punto di vista del tiro però attenzione questo forse l'hanno notato in pochi Marini ha una valutazione maggiore quest'anno dell'anno scorso questo perché perché prende più rimbalzi e soprattutto recupera 1,7 pallone a partita mai successo nella sua carriera che Marini è quest'anno secondo me è un giocatore strepitoso un giocatore di talento ma voi lo conoscete sicuramente meglio di me perché l'avevate già qua a Forlì mi sembra che sia un giocatore che gioca con grande disponibilità verso i compagni cosa che in pectore non sembrava prima che arrivassi io comunque non è stata o comunque a me non interessa io sono molto contento del suo rendimento e c'è stata una delle ultime partite dove lui è stato veramente sotto tono per 30 minuti e stando nella partita con la testa ce l'ha vinta con due canessi e due difese ce l'ha praticamente vinta lui sono cifre assolutamente di grande riguardo quelle che ha quest'anno perché ripeto gioca vicino a compagni molto validi molto forti quindi è giusto che nemmeno lui accentri il gioco e sono molto contento del suo rendimento del suo atteggiamento e del suo inserimento all'interno di questo gruppo ma è cambiato il modo di giocare di Marini con Dell'Agnello rispetto all'anno scorso? fondamentalmente non credo secondo me è un po' cambiato forse il suo approccio al campo ma questo io lo dico perché mi viene detto perché l'anno scorso non c'ero e tutti mi dicono ma come bravo Pier quest'anno ma che approccio positivo e quindi io non so magari ho trovato la chiave di volta o non mi interessa io so che sono molto contento di lui ma il discorso del giocare due giocare tre è un po' un finto tormentone sul quale poi anche io stesso ho giocato perché in realtà lui gioca rispetto all'anno scorso vicino a un compagno più grande e quindi magari difensivamente il compagno fa il tre eccetera ma in realtà i compiti offensivi del due o del tre cambiano veramente di poco e quindi per Pier non è cambiato in sostanza praticamente niente poi dopo ci facciamo le chiacchierate al bar e va benissimo però in sostanza è cambiato ben poco però fa piacere che ti dici che rispetto a quello che ti viene detto l'atteggiamento di Marini sia un atteggiamento comunque sempre positivo e secondo me lo si è notato anche nella partita con Ferrara dove anche lì non è che gli entrassero tantissimi tiri però comunque è sempre rimasto per così dire applicato un altro paio di domandine Francesca ai nostri ospiti Allora Forlì per i giocatori brevi e veloci che ha non spicca per la sua difesa un play che subisce costantemente i pari ruoli avversari e la mancanza di un leader puro quali sono di questi due gli aspetti che incidono particolarmente nel rendimento di questa squadra? Nessuno dei due è un'osservazione che non mi trovo particolarmente d'accordo anche perché ripeto prima dell'ultima partita siamo stati la terza difesa del campionato però i numeri bisogna anche un pochino saper rileggere noi siamo una squadra che cerca di andare abbastanza di corsa e vogliamo controllare poco perché abbiamo giocatori adatti a correre quindi ad esempio avremo sempre il maggior numero di possessi di Verona che in questo momento è la miglior difesa del campionato A perché è ben allenata B perché sono giocatori forti C perché difendono ma camminano anche più di noi quindi ci sono meno possessi e per forza di cose subiranno meno punti secondo me Folli è una squadra che per esprimere il meglio del proprio potenziale deve provare a fare transizione a fare contropiede comunque muovere la palla velocemente come è successo poi contro Ferrara ancora Francesca Per Turci cosa ne pensa della Stella Azzurra Roma fanno giocare di 2004? Parliamo di giovani insomma bella questa domanda perché Stella Azzurra Roma è una realtà sotto gli occhi di tutti importantissima del panorama cestistico italiano c'è il 2004 come Visentin che vedo che sta facendo quasi 20 punti in partita quindi nel 2004 penso che tutti gli scout importanti di Serie A non solo controllano la Stella Azzurra con con grossa attenzione fanno foresteria prendono i migliori ragazzi che ci sono sul territorio non solo nazionale anche fuori noi nel nostro piccolo territorio passione identità quindi proviamo a fare tutto chilometro a zero proviamo a tirar su i nostri ragazzi dal delle nostre società collegate da Rimini sotto Arcangelo San Marino Veruzio cerchiamo di fare con quello che abbiamo Stella Azzurra tanto di cappello è un esempio che investe sul settore giovanile fa il campionato di Serie B con tutti i giovani quindi se ne dovrebbero essere di più di società come la Stella Azzurra perfetto ancora dai Francesco abbiamo tempo per un'ultima domanda prima della pausa pubblicitaria allora per Ravenna stiamo subendo tanti tiri liberi ma tutti quei falli ci sono? beh io sono uscito per 5 falli in 22 minuti quindi potrei avere un po' di polemica da fare in realtà è stata una partita dove non darei tanto la colpa agli arbitri per quanto riguarda se è fallo o non è fallo ma è più che altro era il metro arbitrale che a un livello di contatti secondo me minimo veniva fischiato fallo ogni volta sia per noi che per Imola non è stata una partita dove gli arbitri hanno ammazzato noi e Imola no secondo me è stata una partita lunghissima interrotta da mille contatti che può sempre essere fallo come non lo può essere mai e quindi si dice in genere che fischiavano i respiri fischiavano i respiri infatti sia da parte nostra che da parte loro giocatori usciti con 5 falli ce ne sono stati però pazienza benissimo allora noi per adesso ci fermiamo un attimo ci fermiamo per una pausa pubblicitare però attenzione perché torniamo con una terza parte basket che proprio non dovete perdervi prima di tutto perché faremo una bellissima premiazione qui in diretta e poi perché andremo a svelarvi assolutamente dei cimeli storici incredibili legati all'allenatore della Palacanesto 2.0 15 folì Sandro dell'Agnello quindi breve pausa e poi non staccatevi dal vostro televisore perché vi divertirete tantissimo a tra poco eccoci rientriamo da questo breve break pubblicitario per un momento davvero molto particolare lo annunciava poco fa Enrico settimana scorsa abbiamo fatto la premiazione abbiamo eletto il vincitore del nostro fotocontest di ottobre e oggi abbiamo deciso di premiarli qui in diretta e di averli qui accanto a noi quindi adesso vedrete i nostri vincitori accanto a me con il premiatore quindi ciao ragazzi vi chiedo di presentarvi intanto Claudia e Marcela Diego Maurizio molto bene vi aspettavate di vincere ci speravamo ci speravamo dicono molto bene quindi è una vittoria che arriva così inaspettata sono tifosi dei Tigers Cesena come potete vedere dalle loro felpe e il premio è quello che vi abbiamo annunciato settimana scorsa il braccialetto griffato dal nostro Alberto di Anne Art Creazioni ciao Alberto ciao Francesco benvenuto quindi finalmente ti presenti ai nostri telespettatori come è nata l'idea di questo braccialetto come premio beh innanzitutto facendo questo di lavoro e essendo poi un appassionato di basket abbonato del Forlì non poteva non venire da sé questa cosa quindi diciamo che è la mia passione il basket fin da piccolino quindi seguo la squadra tuttora messo insieme al mio lavoro che è quello appunto di creare monini gioielli o cose di questo tipo ho detto facciamo una cosa dedicata al basket dedicata principalmente al basket della nostra zona ma a tutti gli appassionati e ai tifosi assolutamente originale anche il premio adesso lo faremo vedere perché a te l'onore di premiare i nostri ospiti consegnando il braccialetto che lo facciamo anche inquadrare per bene vedrete il braccialetto è personalizzato perché il cordino riprende i colori della squadra del cuore dei nostri vincitori in questo caso bianco e nero siete contenti? sì sì ma adesso vi chiedo qual è il vostro giocatore preferito? beh Scanzi Scanzi? anche a me Scanzi Battisti Battisti ottimo avete qualche domanda da fare ai nostri ospiti o Enrico in merito alla vostra squadra? sì sì oh sentiamo ma di che cosa è fatto il braccialetto? oh di che cosa è fatto il braccialetto ci chiede di ah giusto hai ragione ottima ottima domanda allora è un braccialetto in bigiotteria in un materiale assolutamente anallergico è la bigiotteria che usano anche per alta moda io lavoro sia materiali di bigiotteria che anche preziosi come argento il cordino è in realtà fatto un cordino di un cotone cerato che puoi tranquillamente allargare e stringere come così crescendo lo potrai portare anche lungo il polso come vorrai meraviglioso altre domande ne avete? oh io ho i due figli che giocano nel Cesena Basket 2005 e da anno scorso ci siamo appassionati ai Tigers Cesena e insieme altri genitori stiamo cercando di portare più famiglie possibili e bambini al Carisport perché vogliamo fare un tifo sano e delle famiglie perché ce n'è bisogno nello sport e in questo guarda veramente ti ringrazio perché hai detto una cosa bellissima credo che valga per tutti e deve valere assolutamente per tutti dai una domanda io volevo chiedere al direttore di Rimini se effettivamente Cesena può stare lassù davanti tra le prime o in questo momento o no rischia di compromettere un po' anche se è molto presto no io credo che onestamente Cesena abbia tutto il tempo di recuperare e di arrivare poi in forma quando quando contano che sono i playoff poi i playoff saranno incrociati con l'altro girone quindi secondo me Cesena ha tutto il tempo per risalire la china perché oggettivamente è una squadra veramente completa e forte logicamente gli infortuni stavano incidendo parecchio insomma contro di noi hanno fatto una partita strepitosa noi l'abbiamo approcciata malissimo e loro ci hanno veramente insomma rullato però a parte quello lì ho visto che poi dopo hanno fatto fatica non è un campionato facile è un campionato molto molto difficile molto equilibrato e se logicamente vai a giocare senza due giocatori la partita dopo di noi sono andati a Civitanova senza Berkic senza Fassinetti dopo fai fatica e perdi le partite perché comunque le altre squadre sono molto attrezzate ma io sono convinto che Cesena arrivi nelle posizioni alte della classifica grazie altra domanda volevo chiedere da esterni secondo voi perché noi in trasferta non riusciamo a vincere le partite secondo me è un po' legato al discorso che faceva Davide adesso nel senso giocatori dal punto di vista dell'esperienza di Berkic nel caso di Civitanova ma anche di Planenzio stesso in trasferta poi sono quei giocatori ovviamente che servono per riuscire poi a andare a vincere in campi non semplici come quelli marchigiani che non saranno semplici per nessuno detto questo credo credo che comunque ancora dal punto di vista della conoscenza reciproca in campo Cesena Posse debba ancora migliorare molto fatto di segnare comunque sempre tra i 50 e i 60 punti a partita ecco su questo Di Lorenzo sicuramente del lavoro lo deve fare benissimo io dico che ringrazio intanto i nostri vincitori e mi congratulo ancora con voi grazie anche ad Alberto e Alberto io ti chiedo una cosa se i nostri telespettatori volessero conoscerti meglio dove ti possono trovare? ma semplicemente sui social tramite Instagram nella pagina DNA Arte Creazioni e su quella Facebook perfetto e allora grazie anche da parte mia Alberto faccio una domanda a Davide però perché è questo che ti voglio chiedere allora questi sono ragazzi tifosi tutti ragazzi perché assolutamente come anche io mi considero tale non state le mie venerante età tifosi di basket di Cesena avete 2000 persone al palazzetto dai prenditi l'impegno con Enrico Pasini che forza tutte le volte al palazzetto al Flaminio quando andate in trasferta foto 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 taggate Panorama Basket e partecipate al concorso anche voi da Rimini vogliamo portarvi qua parleremo con i nostri ragazzi di Big Rocket che sono strepitosi e gli daremo questo compito dai va bene insomma la stessa cosa vale per Ravenna la stessa cosa vale per Forlì assolutamente perché insomma c'è entusiasmo in tutte le tre piazze e questo entusiasmo anche noi di Panorama Basket lo vogliamo assolutamente cavalcare detto questo Francesco siamo pronti per un giochino che il nostro Sandro Dell'Agnello lo vedrà protagonista principe indiscusso sei pronta? io direi proprio di sì bisogna vedere se Sandro è pronto sempre allora andiamo con il nostro InstaFile eccoci qua allora ecco con questo InstaFile che cos'è lo ripetiamo per chi ancora non lo conoscesse cinque foto dietro le quali si nascondono cinque domande all'insaputa del nostro protagonista abbiamo scelto in questo caso Sandro Dell'Agnello che deve farci una cosa molto molto semplice scegliere dalla numero uno alla numero cinque il numero della foto che vuole e poi noi gli faremo la domanda appunto corrispondente di Sandro foto numero uno vediamo qual è allora si chiederanno i più che cosa c'entri questa foto ma questa è una foto con il nostro giornalista Enrico Pasini che posa insieme a Dell'Agnello no ovviamente stiamo scherzando ovviamente stiamo scherzando questa foto ci lancia a quelle che sono le domande perché è una foto che risale al 2012 e in particolar modo è proprio il giorno della tua conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Fulgo Libertas di Forlì quindi dopo sette anni sei ritornato qui a Forlì e sono curiosa di sapere un po' le differenze e le analogie che hai ritrovato a partire da una domanda che riguarda te tu Sandro Dell'Agnello sei cambiato e come? Sicuramente ho più rughe e meno capelli se si vede abbastanza bene anche in televisione qua ci sono dei fattori fondamentali per essere felici di essere qua a lavorare a fare il mio lavoro è una città che vive di basket Forlì c'è grande passione c'è grande seguito e c'è grande calore al palazzetto e ancora di più c'è una società formata da persone serie che si sta strutturando in questi anni da persone entusiaste da persone che hanno voglia di costruire qualcosa e ne sappiamo tutti che negli ultimi anni nella palacanestro costruire e programmare non sono i verbi più usati e quindi credo che ci siano solo aspetti positivi a lavorare in una realtà come questa e io sono molto felice di esserci e credetemi la domenica quando entro al palazzetto sapendo di lavorare per una società di questo tipo in una città di grande passione come questa mi sento veramente a casa mia In che cosa Forlì è rimasta la stessa e in che cosa invece l'hai trovata cambiata? Ma forse perché vivo in una zona diversa da quando ero qua 7-8 anni fa mi ricordavo ci fosse meno verde quindi mi sembra una città molto vivibile e molto verde in questo è un aspetto della città del quale non mi ricordavo forse perché vivevo in pieno centro e quindi in mezzo a dei palazzi e facevo meno caso a questa cosa Pensi che adesso per com'è strutturata Forlì sia pronta per una Serie A? E questo dobbiamo chiedere al presidente Nico Santi e ai suoi sei soci io sono la persona meno indicata per rispondere a questa domanda però credo che sia una desiderata comunque nell'angolino della testa di ognuno dei nostri membri del CTA ci sia la volontà sicuramente di crescere quindi perché no un giorno decideranno loro quando di pensare anche alla 1 ottimo scegli la seconda foto 3 numero 3 allora foto numero 3 oh allora qui iniziamo a parlare un po' di storia oh questa è una foto particolarissima Italia Svizzera 29 ottobre 1987 giocata a Forlì al Palafiera qualificazioni per gli europei è una partita famosissima dell'agnello lo vedete ha la maglia numero 7 in questa foto però adesso noi vogliamo fare un quiz con Sandro dell'agnello partiamo Sandro ora mi dici dal primo a sinistra mi sposta anch'io di fianco al maxischermo nomi dei giocatori i tuoi compagni di squadra di allora partiamo da lui ce la posso fare Bosa Costa Carrera Barnia seduti non lo conosco eh sì esatto Bescovi della Valle direi Fantoci Riva Gentile perfetto le azzeccate tutti Sandro dell'agnello però il quiz non finisce qui partita abbiamo detto molto famosa non ti chiedo il risultato ma ti chiedo ti ricordi quanti punti fece l'Italia? no proprio no assolutamente no guarda che famosa eh sì sì va bene 141 ne fece l'Italia in quella partita giocavamo contro i morti non solo quanti punti fece Sandro dell'agnello? non ho idea spara spara indovina non ho idea quanti ne potresti fare te in una partita? non ho idea allora 20 punti davvero? sei contento? ma perché giocavamo contro i morti? sai che ha fatto molto meglio di te Antonello Riva ma era la partita del record di Riva? esatto quindi era la Svizzera forse esatto quanti ne fece Antonello Riva? una caterva non lo so 60? no meno 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 46 però quella partita giocata a Forlì nell'87 è la partita del record di punti con la mano della nazionale di un giocatore italiano ovvero di Antonello Riva allora ti posso dire che avevamo concordato prima della partita di provare a far rifare il record ecco questo me lo ricordo bene ora cioè mi sono ricordato adesso che andò proprio così vista anche insomma la scarsità con tutto il rispetto degli avversari perfetto prima pagina di storia aperta deve aprire un'altra dai scegli le foto 5 foto 5 foto 5 ecco su questo preparatevi preparatevi tutti perché è una foto assolutamente esclusiva e abbiamo soltanto noi e per questo io devo ringraziare Sandro perché questa potremmo definirla la foto della tua vita è come abbiamo detto un reperto davvero eccezionale esclusivo perché quello che vedete tirare non è altro che sua maestà Michael Jordan e ovviamente chi è che lo sta stoppando beh sarà Sandro Dell'Agnello noi sappiamo che nella tua biografia questa questo evento è stato citato però viene narrato un po' come una leggenda metropolitana perché non esistono effettivamente prove addirittura ci sono altri siti specializzati che insomma mettono un po' in dubbio questa cosa quindi noi stasera con questa foto abbiamo detto eccola è questa la prova ed è vero ed è successo quindi intanto ti chiedo è vero che questa è l'unica foto che conservi di te io non ho niente del mio passato da giocatore magari anche con un po' di dispiacere un po' di superficialità però non ho mai conservato niente e l'unico cimelio che ho della mia carriera diciamo così è questa foto che ricordo con orgoglio ma non tanto per la stoppata per il gesto tecnico quanto per il rispetto che dobbiamo portare e che mi onora parlando di veramente del signor pallacanestro e ti ricordi anche con precisione quando è stato e com'è stato dunque eravamo in Valtellina in prestagione lui era a fare un tour europeo per promuovere le famose Air Jordan che stavano uscendo quell'anno quindi si parla immagino dell'84 85 86 85 ok e lui giocava con la maglia con la squadra di Trieste e quindi lui diciamo rinforzava la squadra di Trieste e io facevo parte di una selezione di giocatori italiani selezionata apposta per giocare quella partita lì Sandro stiamo vedendo anche delle immagini eccole con Michael Jordan in maglia Trieste Stefano e Sandro dell'Agnalo che lo marca continuo sì 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 e quindi sì fu un avvenimento lui arrivò eravamo appunto in Valtellina lui arrivò con l'elicottero perché appunto era una cosa proprio promozionale della Nike e fu un evento molto seguito anche immediaticamente al tempo considerate che non c'erano i social non c'era internet e quindi anche giornalisticamente fu un evento molto seguito ovviamente per Michael Jordan non per me ovviamente avrai subito anche tu delle stoppate nella tua storia da giocatore quali sono quelle più quali sono state quelle più dolorose che ti hanno segnato di più o che ti hanno suscitato qualche emozione particolare oddio non mi ricordo però essere stoppati non dico che sia umiliante ma va abbastanza vicino all'umiliazione quindi facciamo finta che non me ne ricordo nemmeno benissimo allora passiamo ad altro perché se stoppare Michael Jordan è stato un tuo orgoglio io ti chiedo da allora ad adesso ti considero un professionista che ha realizzato tutti i suoi sogni o c'è ancora qualcosa che vuoi raggiungere qualche sogno da realizzare e soprattutto qual è? ho permesso che io mi ritengo una persona molto fortunata perché ho fatto per tanti anni quello che avevo cioè ho giocato a palacanestro per tanti anni probabilmente l'avrei fatto gratis e invece mi pagavano anche quindi sono stato molto fortunato ho proseguito la mia passione nel basket facendo l'allenatore quindi sono molto fortunato anche in questo non ho da lamentarmi di niente e mi piacerebbe un giorno poter competere per vincere il campionato questo sì io non ho mai fino adesso ho avuto l'occasione di avere una squadra competitiva per vincere il campionato parlo dello scudetto ecco per essere chiari certo e ho fatto magari delle salvezze che sono stati attentici miracoli però mi piacerebbe poter competere per questo io sono arrivato tardi nella mia carriera cestistica da giocatore ho vinto lo scudetto in età avanzata e quindi conto di farlo anche da allenatore benissimo Sandro io ti fermo un attimo perché poi non abbiamo finito i cimili storici qui assolutamente tu hai ancora due foto da scegliere però prima Francesca andiamo a salutare i nostri partner andiamo a salutare prima Basketball Stars Camp e a seguire Viaggi Fortuna imparare la palla canestro dai suoi maestri ora si può a luglio Basketball Stars Camp porta tutti i cestisti romagnoli dai 12 ai 18 anni a scuola negli Stati Uniti e in Spagna prenota subito e a costi accessibili il tuo viaggio unendo basket e turismo alla scoperta di New York e Philadelphia o della Spagna due viaggi distinti ma allo stesso scopo visitare le metropoli e i loro grandi college giocare sui playground più famosi al mondo allenarti al Sixers Camp dei Philadelphia 76ers al Nike Camp nel New Jersey o a un nuovo camp nella penisola iberica uno staff di tecnici qualificati ti accompagnerà dall'Italia e assieme ai migliori allenatori americani e spagnoli ti aiuterà ad affinare le tue doti tecniche vivi un'esperienza indimenticabile scopri tariffe e programma su starscampforlee.it e contatta Richard Lelli agli indirizzi in sovrimpressione da oltre 40 anni Viaggi Fortuna ti accompagna alla scoperta del mondo per pianificare trasferte di lavoro e vacanze da sogno affidati a un team di 14 professionisti e vieni a trovarci a Forlì in Corso Garibaldi 42 e in Via Edison 1 oggi Viaggi Fortuna consiglia una settimana da sogno con Press Tour a Cuba un viaggio per scoprire la vera Cuba la sua natura i suoi parchi le sue tradizioni il suo cuore Cuba non è solo mare e sole l'isola caraibica e musica storia, natura arte, folklore e un popolo allegro e cordiale con Press Tour puoi soggiornare all'explora club BeLive turchesa affacciato sul mare della penisola di Varadero in una delle spiagge più affascinanti per la sua sabbia bianca e a soli 90 minuti dalla straordinaria capitale Lavana con le offerte i pacchetti vacanze Press Tour prenotando entro il 10 dicembre con Viaggi Fortuna potrai usufruire di un'offerta promozionale dedicata a te Benissimo rieccoci in studio Francesca abbiamo anche tante vostre domande giunte via Whatsapp allora andiamo ovviamente con alcune di queste Per Chiumo sono contenta che tu sia tornato perché trasmetti sempre energia positiva e unione di squadra A Imola è stata dura ma non abbiamo mai smesso di sostenervi spero che la nostra forza vi arrivi quando siete in campo Forza Ravenna sempre Bene Fa piacere Carichi No, ottimo Ancora Cosa ti ha riportato Ravenna? Scusa, permetti Cosa? Cosa ti ha riportato subito Ravenna dopo un anno di assenza? Beh sicuramente l'anno scorso prima di andare a 100 c'è stato qualche incomprensione è cambiato comunque un ciclo era andato via Antimo è cambiato comunque anche il direttore generale che da Montini è arrivato trovato quindi diciamo che forse era finito un un mini ciclo un mini ciclo quindi poi però sicuramente le mie due stagioni a Ravenna sono state per me fantastiche per mille motivi è un posto che veramente adoro per qualità di vita per come si sta ho conosciuto Francesca il primo anno a Ravenna quindi mi dà tante sensazioni positive e devo dirti anche che quest'anno ho ritrovato una società veramente migliorata è organizzata molto bene molto bene a Ravenna adesso un giocatore pensa solo a fare giocatore e per il resto è veramente in questo va dato merito a Ulio che ha riorganizzato molto bene la società perfetto ancora Francesca non è polemica ma un dato di fatto come si fa a giocare in un palazzetto così riferito a Imola molti di noi sono rimasti fuori per biglietto settore ospiti terminati complimenti ai 300 ravennati complimenti ai 300 ravennati assolutamente che sono andati a seguire il derby e Imola il pallaruggiero sappiamo che è quello sappiamo anche che insomma ci sarebbe necessità di un nuovo impianto speriamo che anche Imola si decidano a farlo così come lo sta facendo l'amministrazione comunale di Ravenna i primi lavori sono partiti se non sbaglio lì vicino alla palla di Andrè per il palazzetto nuovo almeno i primi scavi si dovrebbero esatto dovrebbero per gli iniziati oh invece invece parliamo velocissimamente anche delle partite che verranno allora domani Teramo 19 partite importantissime con alcune vecchie conoscenze anche del basket romagnolo ho giocato con una squadra che ha Lestini chi a Forlì non si ricorda di Lestini 14 punti di media Teramo che partita sarà Davide? sarà una partita in trasferta in trasferta che è abbastanza relativamente lunga andiamo là per per vincere perché pensiamo di di dover portare a casa due punti ancora quelli che abbiamo lasciato in casa con Iesi mi dispiace tornare lì però quella sconfitta un po' ci è rimasta e domani è l'occasione di andare a prendersi due punti e dopo viene Giulia Nova in casa vostra quindi insomma è un doppio turno importante questo un doppio turno che dobbiamo fare di tutto per provare a vincere le due partite mentre mentre ricordiamo come Cisena giochi contro Porto Sant'Elpidio nel ritorno al Carisport mentre per Faenza c'è la trasferta di Civitanova Marche Alberto velocemente invece sabato dicevamo contro Udine che esame è per voi? forse più per Udine in questo momento però un esame è durissimo una squadra che sulla carta era considerata una delle favorite alla era ed è probabilmente considerata una delle favorite alla promozione perché penso che dopo sei giornate non si possa dire che una squadra stia fallendo l'obiettivo piuttosto hanno avuto qualche problema adesso mi sembra che arrivino da due sconfitte consecutive sicuramente come ho detto all'inizio tutte le partite bisogna provare a vincerle perché non ce ne sono non ce ne sono di squadre materasso non ci sono partite facili spero e penso anche che siamo in grado di fare una grande partita contro i loro e giochiamo per vincere perfetto allora Francesca Sandro Dell'Agnello deve ancora scegliere due foto? allora gliele facciamo scegliere ricordiamo quali sono devi scegliere la foto numero 2 e la foto numero 4 quali scegli prima? due foto numero 2 vediamo subito qual è? ecco in questa foto vediamo i due figli di Sandro Dell'Anello che sono Giacomo e Tommaso entrambi giocatori di pallacanestro Giacomo Avigevano e Tommaso alla pallacanestro Livorno so che tra voi c'è un legame davvero molto molto profondo ce ne vuoi parlare un po'? beh sono molto orgoglioso di loro ma quale babbo non è orgoglioso dei propri figli siamo molto legati non ci vediamo molto perché poi appunto uno è Avigevano a Livorno io sono qua ma non ci siamo mai persi di vista da quando sono nati e anche se adesso sono uomini e quindi magari non vorrebbero te lo dicessi ma dico una banalità i figli sono la gioia più grande che ti può capitare nella vita e quindi ne sono veramente orgoglioso la pallacanestro non c'entra niente e come sono come carattere quindi persona e come giocatori purtroppo non ho dato loro né molto talento né molta altezza né molto fisico non ho dato loro niente però sono due ragazzi d'oro il Giacomo che gioca a Avigevano purtroppo per lui è la mia fotocopia anche caratterialmente quindi si avrà da patire parecchio nella vita l'altro invece quello a destra che è il più grande è molto più scansonato molto più sociale gioviale di me e del fratello e quindi vive molto meglio di noi accettano mai i tuoi consigli li critichi mai sulle partite no parliamo sì parliamo di pallacanestro ma non ho mai fatto l'allenatore con loro non ci riesco sono i miei figli non faccio l'allenatore faccio il babbo e quindi se ti capitasse l'occasione di poterli allenare veramente eh non lo so sicuramente sarebbe un piacere so che per loro specialmente cioè loro mi dicono spesso che a loro farebbe molto piacere ecco benissimo allora Santo ti resta una foto da scegliere ovviamente la numero immagino la 4 la numero 4 allora andiamola a vedere perché abbiamo parlato di gesti atletici importanti ed eccone un altro questo è sempre Sandro Del Agnello che nel 1982 quindi quando aveva solo 21 anni stoppa un'altra leggenda del basket americano che è Moses Malone e questa foto è storica e questa foto è storica raccontaci quegli episodi ma allora questa è un po' meno impattante di quella con Michael Jordan perché questa qui è una foto in precampionato giocavo a Livorno in A2 e c'era una selezione di giocatori NBA che giocava per l'Italia e appunto si esibiva ha fatto qualche partita amichevole tra cui con noi a Livorno con la Palacanese a Livorno però onestamente erano giocatori in vacanza che erano in Europa a fare vacanza e non lo so in una vacanza di 15 giorni adesso non mi ricordo hanno organizzato 3-4 partite se si può notare la maglietta di Moses Malone si vede un discreto addominale sporgente che fa capire bene il momento di forma in cui erano per la partita comunque avevi 21 anni e tu avevi iniziato a giocare a basket a 18 più o meno sì ho iniziato molto tardi motocross motocross abbastanza attinente alla Palacanese questo giuro non lo sapevo sì ero appassionato di motori famiglia di camionisti quindi alta borghesia nobiltà eccetera eravamo fissati con i motori volevo fare il pilota di rally e poi fortunatamente sono cresciuto e mi sono dato alla Palacanese però allora quell'episodio è stato comunque una svolta io ti faccio vedere un'altra foto sempre legata a quell'episodio che è questa l'intervista che ti dedicò Super Basket proprio per l'uomo che stoppò Moses Malone questa è una sbagliata la tua prima vera intervista da giocatore una delle prime può darci che lo sia stata sì sì Spacciolini quindi Rapide può essere stata sì può essere stata al punto che il sottoscritto vedete per non saperne leggerne scrivere l'ha ritrovato il Super Basket con quell'intervista di Sandro Dell'Agnello nella sua collezione di Super Basket da Antologia e da Antan qui siamo nell'82 ed eccola Sandro Dell'Agnello in questa intervista nel settimanale di Aldo Giordani che era la Bibbia per noi assolutamente assolutamente non c'era un social non c'era internet ma mi riallaccio un attimo ai miei figli io ho avuto una carriera vabbè importante è inutile fare i finti modesti e quando io giocavo ero nel piano della carriera i miei figli avevano 3, 4, 5 anni quindi non mi hanno vissuto e quando poi qualcuno fa presente loro che io sono stato un buon giocatore mi guardano come dire ma te cosa faccio perché io sono il babbo non sono stato l'ex giocatore di alto livello questa cosa ci diverte molto sei mai stato vicino a giocare con la maglia di Forlì? sì un anno sono stato io giocavo a Roma nel Messaggero e la proprietà che era se non sbaglio di Rovati aveva la proprietà della squadra di Roma perché al tempo c'erano i cartellini quindi eri vincolato alla società dove giocavi Rovati si è trasferito ora correggimi se sbaglio a Forlì sì certo non so se con il titolo o senza titolo 94 e siccome io ero proprietà di Roma in quell'anno lì ero vicino a trasferirmi appunto a giocare a Forlì per la verità al periodo là io giocavo in A1 avevo continuavo ad avere bell'età di giocare in A1 e mi cercò la Scavolini Pesero e ovviamente non me ne voglio a Forlì andare a giocare nella Scavolini che avrei continuato a farla 1 addirittura quell'anno feci la Coppa dei Campioni sì sarà meno contento Davide quell'anno andò bene anche a Forlì comunque verlo lo sappiamo tutti e non avremmo visto Kenny Becks Williams perché tu giocavi in quel ruolo giocavi da qua eh probabilmente vi sareste perso lui diciamo non avremmo avuto Kenny Becks detto questo Francesca siamo veramente in chiusura due o tre domande veloci da fare perché così ovviamente giustamente voi che ce le avete mandate avete la possibilità di sentire le risposte dei nostri ospiti per dell'agnello innanzitutto grazie mille coach per essere tornato a Forlì e sono tanti i messaggi di questo genere lei è il miglior acquisto in assoluto di sempre della nuova società Palla Canestro Forlì 2.015 in quali aspetti secondo lei è necessario migliorare per poter puntare a stare al fianco delle favorite del girone inoltre domanda extra cestistica come si sta trovando a Forlì nella sua seconda esperienza un po' ne abbiamo già risposto anche prima sì abbiamo un po' risposto anche prima riassumendo noi dobbiamo essere un pochino più continui in attacco e in difesa leitmotiv di praticamente tutte le squadre di questo inizio di stagione a Forlì sto benissimo perché a me piacciono le città a misura d'uomo e ad esempio abbiamo parlato prima io ho giocato due anni a Roma è una città fantastica però la metropoli non fa per me mi trovo meglio nelle città di provincia diciamo così benissimo complimenti sempre a Sandro Dell'Agnello perché dice questo ragazzo non sono un tecnico e credo che Sandro però sia il più indicato a dare giudizi sui due play di Forlì poi ancora grazie coach felicissimo che sei tornato ma è vero che per domenica a Mantova i biglietti per gli ospiti costeranno 18 euro se è vero al ritorno dobbiamo farglieli pagare 30 euro 30 euro giuro ancora non lo so so che c'è tempo fino a domani per prenotarsi con il basket club Marini perché vuole andare in trasferto ovviamente con il club di tifo organizzato mi informerò anche di questa cosa su 18 euro detto questo la domanda sulla coesistenza di Giacchietti e Walson coesistono? coesistono e sono contentissimo di averli ma sono due giocatori fondamentali per la nostra squadra Giacchietti parte dalla panchina non perché sia un panchinaro ma perché per noi ha un valore aggiunto proprio partendo dalla panchina probabilmente il nostro giocatore è più importante ma poi sono diametralmente esposti uno spinge il pallone a mille all'ora uno è più ragionatore uno è meno esperto uno è più esperto sono due punti di forza della nostra squadra benissimo allora io sono veramente in chiusura chiedo scusa a Pozzi perché abbiamo un po' sforato mi dispiace davvero ma oggi avevamo tre ospiti davvero molto importanti voglio chiudere con una domanda Davide perché per me io ci tengo davvero a farti questa domanda da Romagnolo da Romagnolo io voglio vedere Rimini non qui ma ancora più in alto casomai assieme a Cesena e casomai assieme a Ravenna e casomai assieme a Forlì perché no Faenza però una Serie 2 Milano-Romagnola come il baseball diventa un campionato regionale è il sogno che abbiamo tutti adesso con calma ci arriveremo però ci volete arrivare speriamo presto siamo ambiziosi siamo ambiziosi davvero 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 tanti derby noi li vogliamo raccontare non solo qui in studio ma vivere in campo come quelli che stanno in vedi in Serie B e in Serie 2 abbiamo già vissuti parecchi in questa stagione detto questo Francesca li andiamo a salutare grazie ai nostri ospiti Sandro Dell'Agnello Alberto Chiumenti grazie Davide Turci grazie a te Enrico io Francesca prima ringrazio chi è stato con noi ovvero i nostri amici tifosi di Tiger Cesena che hanno vinto il premio per il contest della foto del mese mandateci 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 foto ovviamente perché dovremmo leggere la foto di novembre grazie anche ad Alberto esatto che ha premiato grazie a voi per averci seguito noi ci vediamo martedì prossimo buona serata è un panorama il panorama è un panorama basket è un panorama basket è un panorama basket è un panorama basket il panorama basket è un panorama basket è un panorama basket